Ciao a tutti, il progetto di legge che pubblichiamo oggi su Lex in realtà è un mini progetto di legge e riguarda una realtà molto specifica che è quella dell'ospedale D'Angera in provincia di Varese. In Lombardia è stata fatta una legge per la riforma sanitaria che mette insieme ospedale e territorio, cioè dice che vanno superate le divisioni per ospedale e territorio, ma unico caso nella Lombardia, a D'Angera invece c'è un ospedale che è un enclave, cioè è completamente separata da tutto il resto del territorio perché tutto il territorio intorno a D'Angera sta sotto un'altra ASST, le ASST sono le agenzie sociosanitarie e territoriali, quindi l'ospedale di D'Angera è sotto la SST della Valle Olona che fa capo Augusto Orsizio, tutto il territorio intorno all'ospedale D'Angera invece, che dovrebbe essere di sua pertinenza, è stato messo sotto la SST dei Sette Laghi che fa capo a Varese. Questo cosa comporta? Molti problemi, perché ad esempio una problematica che è uscita sui giornali che è quella della mancanza, della diminuzione del numero di parti a D'Angera è dovuta anche al fatto che il consultorio che c'è per esempio a Sesto Calende, avendo come pertinenza l'ospedale di Varese, non manda più i bambini ad Angera, ma li manda tutti a Varese, manda le mamme a partorire a Varese. Questo provoca moltissimi problemi, quindi con questo mini progetto di legge noi chiediamo semplicemente che l'ospedale di Angera passi sotto la competenza della SST di Varese, come vedrete è un articolo solo, però giustamente dobbiamo metterlo sull'ex e mi sembrava doveroso metterlo. Vorrei solo dire che in questo caso probabilmente ci sarà un'urgenza di presentazione del progetto di legge e quindi magari lo presenterò prima della scadenza dei 60 giorni. Grazie a tutti.